Via, allora, il pane può essere anche in ferro e va messo poi in ammollo, con le spezie, odori, pomodoro, olio, olio, sale, anche nell'origano, perché comunque dà un buon sapore. Bravissima signora! Grazie mille! Bravissima signora! Ma ci dica tre cose, delle tre cose che nessuno sa sul vettore. In tre parole. Tre parole. La memoria della storia. Bravissima signora! Benvenuti a Sant'Arcangelo, questa è Porta Cerfese. Grazie mille, ci troviamo a Bordo di Montebello. Vi faremo vedere la Porta Cerfese al Bordo, la chiesa di San Pietro a posto, la terra civica e il castello di Montebello. Come si chiama signora? Ines. La signora Ines, che fa tantissimo la pasta secese. Signora, lei come la fa? Come ci racconta? Io faccio la spoglia perché mi piace, basta quei fagioli, diciamo quei basotti, fagioli freschi e allora mi faccio un bel piatto con quei fadrettini e fagioli. Però il cece no, mi piace il cece. Praticamente si fa un rotolo con cardigiano, pane grimpizzato, uova, limone, odore di noce moscata. Si fa un impasto tipo passatelli, poi si fa un rotolo tipo un salame, così, con le mani voglio farlo. Tutto crudo. Tutto crudo. Poi si mette, poi si mette, poi si mette. Ma molti mette facevano così. Oggi siamo a Borgo di Beruccio e vi presentiamo la chiesa collegiata, Piazza Malatesta, Porta delle Rocche, Rocca Malatestiana. Siamo arrivati quasi a mezzogiorno, stiamo morendo di fame, abbiamo parlato di cibo, andiamo ragazze. Siamo arrivati quasi a mezzogiorno.